La seconda conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena terrà i suoi lavori a Gorizia venerdì 24 e a Trieste sabato 25 novembre. A presentarla in consiglio regionale il presidente Franco Jakob assieme al vicepresidente Igor Gabrovec. Un importante momento di condivisione e approfondimento di importanti temi che interessano sicuramente la vita della minoranza slovena ma anche il ruolo della comunità slovena nel tessuto regionale. La conferenza è prevista per legge una volta ogni cinque anni almeno, almeno sei mesi prima di ogni elezione. La facciamo in zona Cesaridi ma non in modo approssimativo. È stato fatto un lavoro importantissimo nel primo semestre di quest'anno, è stato costituito un gruppo di lavoro, una cabina di regia con l'importante supporto del nostro partner scientifico e tecnico che è lo SLORI, l'istituto sloveno di ricerca. Lo SLORI ha predisposto quattro relazioni tematiche, quattro macro temi che verranno discussi già nel pomeriggio della prima giornata, quindi il venerdì 24 novembre. La seconda giornata sarà dedicata all'approfondimento delle conclusioni dei gruppi di lavoro e anche a trarre dei primi spunti per da un lato modificare la legge regionale laddove se ne ravvede la necessità ma anche per dare nuove possibilità di sviluppo e interazione della comunità slovena con la nostra regione.